La bandiera blu di Biceglie come catalizzatore per gli obiettivi sociali della città, il riconoscimento ottenuto per la qualità delle acque nel 2022 è il simbolo su cui falleva l'iniziativa benefica degli imprenditori Felice Gemiti e Onofrio Spagnoletti Zeuli che hanno donato le magliette celebrative dell'ambito premio. A vestirle saranno i membri dell'unità di raccolta sangue dell'ospedale di Biceglie così come il personale dei centri di urni cittadini e le realtà del terzo settore che si prendono cura dei pazienti fragili e disabili. E' molto importante il sociale, molto importante essere vicino alle persone, alla gente, alla gente che ha bisogno, so che l'associazione ha fatto tanto per i bambini, adesso ha fatto ultimamente anche un parco giochi per i disabili, ecco tutte cose, siccome anch'io sono passato per un periodo di grande disabilità ho capito esattamente che cosa vuol dire essere disabili. Questa è una delle tante iniziative che abbiamo incominciato a fare sul territorio ma in futuro vorremmo anche coinvolgere anche altri imbrettitori locali perché comunque sempre lì è più siamo, più possiamo fare. Adesso stiamo portando su Biceglie per cui accogliamo anche altri soci nella nostra associazione. Non solo chi fa parte del settore sanitario e dell'assistenza ma anche i rifugiati ucraini che si sono stanziati a Biceglie dopo essere fuggiti dalla guerra avranno a disposizione le t-shirt della bandiera blu, solidarietà, condivisione ma anche marketing territoriale grazie all'amministrazione comunale con in testa il sindaco Angelo Antonio Angarano e l'assessore Gianni Naglieri. Queste magliette sono un dono simbolico che chiaramente offriremo a tutte le associazioni bicegliesi che dimostrano come il marketing territoriale si fa anche con la generosità e soprattutto con il coinvolgimento e le sinergie tra attori pubblici e privati. Quindi un bel esempio di sinergia oggi e di grande sensibilità istituzionale da parte di tutti.